Ed eccoci nella pista della Cerrina, ottimo cartodromo alle porte di Torino, abituale teatro dei nostri rilevamenti e delle gesta del terribile Alfo. Normalmente la pista è molto penalizzante per i SUV, massa elevata e baricentro alto sono nemici del rendimento sull'asfalto. L'Evoque con i suoi 17 quintali a vuoto non è certo una piuma, mentre l'altezza complessiva è relativamente contenuta per la categoria. Le sospensioni proporzionalmente rigide e la notevole impronta terra delle coperture permettono alla Baby Range di restare agevolmente in traiettoria, senza eccessivo rollio e con buona aderenza. Dopo qualche giro di assaggio, ecco Alfo che lancia SUV britannico verso il tempo sul giro. L'Evoque si appogge in maniera evidente sulle ruote esterne, ma rimane stabile e discretamente precisa. Pare piuttosto veloce, anzi lo è. Il suo tempo è eccellente. Con 58 secondi e 42 centesimi non sfigura anche il cospetto di auto sportiveggianti e si piazza in testa alla classifica dei SUV.